Natale alle spalle, ma le polemiche non si sono affatto esaurite in ordine al cenone organizzato con tutte le maestranze dalla Formia Rifiuti Zero, la società municipalizzata che dallo scorso maggio si occupa del ciclo dei rifiuti al Comune di Formia. L'iniziativa era stata snobbata da moltissimi operatori ecologici che probabilmente i prodotti di collisione con l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, il torinese Raffaele Rossi, avevano deciso di restarsene a casa piuttosto che cenare in uno degli alberghi più noti della città. Se le stesse maestranze che avevano disertato il cenone si erano viste recapitare un questionario in cui dovevano motivare il motivo o le regioni della loro assenza, l'iniziativa di Rossi è finita in una richiesta di accesso agli atti che i gruppi consigliari d'opposizione del Comune di Formia, dell'Odc e di Idea Domani hanno inviato alla Secretaria Generale del Comune, alla dirigente del settore ambiente e ai vertici della stessa società municipalizzata per chiedere di conoscere chi ha materialmente pagato il pranzo e la relativa fattura che secondo alcune indiscrezioni avrebbe un importo superiore ai 2.000 euro. L'Odc e Idea Domani vogliono scongiurare l'ipotesi che il cenone di Natale con i neturbini e le comuni Formia sia stato pagato dalla Formia Rifiuti Zero e dunque con soldi pubblici, anche perché la Secretaria Generale del Comune ha ammesso sempre in maniera informale con alcuni esponenti della stessa minoranza che ciò non sarebbe stato possibile e invece a pagare è stata una società a totale capitale pubblico. Una seconda richiesta di accesso agli atti è stata inviata alla dirigente del settore ambiente del Comune di Formia, Stefania Della Notte, nella veste di Presidente della Commissione di Controllo. Avrebbe censurato il recente operato della Formia Rifiuti Zero accusata di aver espledato una selezione per l'assunzione, per la durata di un anno, di un ingegnere per poi cambiare in corso d'opera la qualifica professionale, un agronomo che con i rifiuti ci azzecca in maniera di pietrista molto poco.